Quinta domenica di Pasqua, anno C. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal Cenacolo, Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figliori, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. Grazie.